Ci troviamo in questo momento a circa due chilometri da Ponte Titele, la zona in cui c'è l'opera di presa della centrale idrolettica Valle del Mis. Ci troviamo sulla strada provinciale della Valle del Mis che in questo momento si trova chiusa per ordinanza proprio a causa dei lavori. Siamo all'interno del parco delle Dolomiti Nazionali, zona UNESCO, patrimonio delle umanità. E questo che vi facciamo vedere in questo momento sono i primi lavori realizzati all'interno del parco delle Dolomiti Bellunesi. Quindi possiamo documentare ufficialmente che i lavori sono entrati all'interno della zona protetta del parco. Perché mentre i lavori di canterizzazione che riguardano la località di Ponte Titele si trovano a poche decine di metri dall'inizio dei confini del parco, qui invece siamo proprio all'interno del parco delle Dolomiti Bellunesi. Questa opera di sbancalamento è stata fatta questa settimana, nei giorni scorsi, e questa strada che vedete continua per circa 200-300 metri oltre quella curva che potete vedere da questa immagine.